Pratiche calde, polemiche e roventi. Il Consiglio Comunale di Arezzo torna a riunirsi in un clima elettrico nel pomeriggio di domani. Nella maggioranza la questione Forza Italia sta diventando un vero e proprio tormentone. Nell'ultima occasione solo un consigliere si presentò, garantì con la presenza e il numero legale, poi tolse il disturbo. Il gruppo non vuole più l'assessore Scapecchi in giunta, ma il sindaco Ghidelli ha rispinto al mittente l'iniziativa, difendendo la posizione del suo rappresentante che è la delega per lo sport e le politiche giovanili. Poi ci sono pratiche pesanti da provare. La volta precedente la delibera sull'area della zona San Lazzaro conobbe una soluzione in estremis. Altri stanno ballando e hanno avuto dei travagli nelle apposite commissioni in precedenza, per non parlare della nuova graduatoria sui nidi che sta generando un mare di polemiche. Intanto si registra un pesantissimo attacco del gruppo PD con i consiglieri Caneschi e Donati, che hanno criticato l'aumento dell'indenità che andranno nelle tasche di sindaco e assessori. La città allo smando, sindaco e giunta, si aumentano lo stipendio, dicono siamo fuori dalla realtà.